L'ambiente in cui ci troviamo è già di quelli che mettono soggezione. Il nome dell'artista è un nome di fama planetaria. Stiamo parlando di Salvador Dalì, un evento straordinario ad Acquiterme grazie al curatore, all'ideatore di questa mostra, che è l'architetto Adolfo Carozzi. Avremo quindi delle sculture in bronzo, degli oggetti in ceramica, in vetro, degli oggetti anche in ottone che fanno parte della serie del design di Dalì e una serie anche di oggetti in oro, realizzati come serie di gioielli, cosa che Dalì faceva spesso e volentieri. La materia quindi diventa la protagonista e la rappresentazione di quelli che erano appunto gli elementi fondamentali del surrealismo, cioè quel grande movimento al quale Dalì ha partecipato nel secolo scorso. Forse uno dei massimi esponenti, lo stesso Dalì, era solito dire la differenza che c'è tra il surrealismo e me è che io sono il surrealismo. Quindi non solo è stato un artista surrealista, ma ha passato una vita intera proprio da surrealista, cioè vivendo la sua vita in maniera veramente spesso al limite della realtà e proprio quel confine che esiste tra il sogno e la conoscenza interiore e la difficoltà nel distinguere quando è ancora sogno e quando diventa realtà. In questa sala dove ci troviamo, perché noi così chiamiamo un po' la sala del tempo, c'è proprio uno degli elementi fondamentali che ha sempre avuto una forte incidenza su tutta la cifra di Salvador Dalì, che è proprio questo orologio molle, a significare che il tempo, anche in questo caso, diventa relativo. Diciamo che la ricerca delle opere è stata abbastanza lunga, abbastanza difficoltosa, più che altro sotto l'aspetto burocratico. Abbiamo poi trovato la maggior parte di queste opere provenienti dal Dalì University di Svizzera, che ci ha fornito poi praticamente l'intera mostra. Architetto Carozzi, concludiamo l'intervista con una domanda, non so se mi può rispondere, ma nella sua mente c'è già qualche idea per il futuro dopo Dalì? Diciamo che i giornalisti vivono sempre di notizie, di scoop, diciamo che un'idea c'è, però chiaramente se potessimo chiudere la triologia degli spagnoli, posso anticipare questo, però bisogna vedere le difficoltà, i costi, l'amministrazione se riuscirà ancora una volta ad ottenere questo grande risultato. Grazie. 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 Grazie.